Buon partito, vado bene, sono la prima parte, con molta intensità, con molte condizioni, con molte condizioni, con molte condizioni, con molte condizioni, con molte condizioni e con molte condizioni. Come definirei i gols di Moser e di Bélica? Il problema di Bélica è la qualità, anche, di dar la seconda linea al tempo, dopo il gioco il gioco, lo scopo, lo scopo, lo scopo, non si vede molto. Llevai 19 trenamenti, ho contato, ho contato, il 10 di giugno, siamo a 26, secondo partito. È difficile a queste alture le livello della prima parte di come avete jugato in tutti i senti? E poi ti volevo dire, che cosa succede con Courtois? Se le succede qualcosa? Non, 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 non c'è una piccola molestia. Non c'è sentito a riesgare oggi, però nel prossimo partito non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. E' una altra explicazione per l'equipo della qualità fisica, tecnica, di attitud, di compromesso. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.